La qualificazione sembra in cassaforte, è probabile che adesso pensino a conservare il risultato piuttosto che a macinare gioco. Occhio al tiro! E c'è ancora un gol! Vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Il movimento è stato perfetto, si è fatto trovare pronto e ha segnato. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e conclude la rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol!